Si gioca contro una squadra, si gioca a rugby, quel quagliarella non ha avuto la possibilità di prendere palla, veniva innestamente tattassato. Ma scusa Pasquale ti stai contraddicendo, hai detto che l'arbitraggio è corretto, comunque è corretto. Sì, sì, ma è molto duro. Vabbè, è duro un po' come Chiellini, che poi andavo anche a simulare un pizzico. Penso che questa volta la Juve abbia vinto con merito, e non era la migliore Juve. Penso di non avere, di non dire nemmeno sciocchezza in questo riguardo, perché non era una Juve all'altezza della Juve, perché altrimenti sarebbe finita sicuramente. Non era la Juve all'altezza della Juve, su questo ne potremmo discutere, stai parlando dell'assenza di Vucinic, insomma, stiamo parlando di Vucinic, mica di Maradona, un giocatore molto normale, un buon giocatore. Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, il paragone sarebbe assurdo. No, ma neanche di fanbasten, buonissimo giocatore. Cioè, non rimarrare la storia del calcio, Vucinic, no, mancava Vucinic, non è Cavani, ecco. No, 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 assolutamente. Vabbè, Pasquale, alla grande. Ciao, grazie. Salutiamo Pasquale, salutiamo Pasquale e ci fermiamo, 5 secondi. Sinfonia elettrodomestici a prezzi mai visti prima. Rieccoci Marte Sport Live, siamo nel dopo Juventus-Napoli, con Umberto Abrega vi parla, Massimo D'Alessandro qui con me e siamo ad ascoltare i vostri commenti, il filo diretto 081636363, in attesa di sentire Gianluca Gifunia ancora dagli spogliatoi dello Juventus Stadium per capire se ci sarà qualcuno degli azzurri che parlerà a Massimo. Caro Umberto, anche stavolta l'ho evita mia, usurdato e innamorato, io insisto, io ce l'ho soprattutto con quelli che insistono a considerarlo un po' l'inno del Napoli, questo è un mio pensiero personale, è una canzone che nel testo non c'ha una volta nominato la parola Napoli, vorrei vedere se la canterebbero invece una bella canzone, simbolo, inno, chiamiamolo come vogliamo, con la parola Napoli, e invece, siccome così non è, ci prendono in giro, è la canzone. È durato poco, è partito l'inno della Juventus, hanno cantato giustamente loro inno per quanto brutto cos'è essere. Inascoltato. Va bene, allora ancora pubblicità e torniamo tra poco. S.P.O.T. Spots. Cuori solitari? Eh, pronto? Mi dica. Cerco un'avventura. Sì. Però con un'affidabile, giovane e fresca. Ah, allora le passo quella giusta. Yeti Fresh. Voglia di avventura? Skoda Yeti Fresh. Compatta anche nel prezzo. Radio, clima, cerchi in lega, vetri oscurati, mancorrenti argento e quattro anni di garanzia. Da 16.590 euro con 3.500 euro di vantaggio, fino al 31 dicembre 2012. Skoda Yeti Fresh. Vieni a provarla nelle concessionarie Skoda. È arrivata la nuova collezione d'autunno Divani a Divani Bainatuzzi. Scegli il divano che più ti somiglia e la formula all inclusive. Un divano per ognuno, quattro vantaggi per tutti. Scopri tutti i dettagli su divaniadivani.it o chiamando il numero verde 800 844 855. È arrivata la nuova Move Up. Aggiornatevi. Nuova versione Move Up. Con radio CD MP3, climatizzatore, electric pack ed ESP di serie. Scopri la gamma app 2013 da 9.500 euro nelle concessionarie Volkswagen. Fabio, dammi il 5. No, ti do il 50. Il 50%. Lo sai che con Cepo hai fino al 50% di sconto per preparare gli esami universitari? Il 50%? Fino al 31 ottobre e hai un tutor individuale, orari flessibili e garanzia di qualità. Informati all'833 1188 su cepo.it. Mio fratello fa il chirurgo, come mio padre. E mio padre come mio nonno prima di lui. E mio nonno ha seguito le orme del mio bisnonno. Sì, anche lui chirurgo. Io invece ho scelto un'altra strada. Buongiorno. Buongiorno, Sesto. La strada giusta è quella meno battuta. Nuova BMW X1 con pacchetto NaviConnection. Navigatore satellitare BMW Business. Interfaccia Bluetooth, USB e voice control. A 950 euro. Con un vantaggio cliente di 1250 euro. E un'offerta valida fino al 31 dicembre 2012. Any Station è un mondo pieno di servizi. Servizio è cambiare olio alla tua auto a soli 39 euro. Con 39 euro hai 4 litri di olio iSynth, 10W40, elevata affidabilità e il servizio incluso. Cambio olio con servizio incluso è pensare alle tue esigenze e a quelle del tuo motore. Pensare alle tue esigenze e a quelle del tuo motore è Any Station. Un mondo che si muove con te. Vai su any.com e scopri le Any Station aderenti all'iniziativa fino al 31 dicembre 2012. Ehi, ma che bella Peugeot. È nuova? Ssss, zitto. Se no mi scoprono. Che c'è? Non ho pagato l'IVA. Davvero? E come hai fatto? È semplice. Con le immancabili offerte Peugeot. Ma fai in fretta. Ottobre è l'ultimo mese. Con le immancabili offerte Peugeot hai un'ultima possibilità per avere l'IVA scontata. E non solo. Su tutta la gamma in pronta consegna. IVA 0 e tasso 0. TAIG 2,84%. Scopri negli showroom Peugeot le auto contrassegnate. O vai su Peugeot.it. Scade il 31 ottobre. Vieni anche domenica. Alcune sfide si vincono con le gambe. Altre si vincono con la testa. Scacco matto. Mentre alcune si vincono col cuore. Le sfide. Una serie di film d'autore per riscoprire la speranza di un mondo migliore. Secondo DVD. L'ospite inatteso. In edicolo soli 9,90 euro in più. Con famiglia cristiana. Cosa è stato? Non lo so, altezza. Alfiere! Sire! Prendi il cavallo e vai a controllare. Subito. E tu, regina. Sire! Avvicinati alla torre. Tranquilli! Prendi il cavallo e vai a controllare. Prendi il cavallo e vai a controllare. Grazie. Grazie. Welcome to the new Camtasia Studio. We encourage you to watch and play with this Getting Started Project video to learn some of the most important concepts of using the editor. If you want more in-depth tutorials that will walk you through the entire process of recording, editing, and sharing your videos, then please watch the Getting Started tutorials using this link under the Help menu. ... 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